benvenuto nel mio canale youtube rivivi emozioni e curiosità direttamente sul tuo pc smartphone o tablet politica sport spettacolo arte costume società sono gli avvenimenti che ti indicano di entrare nel mondo della comunicazione dell'informazione corretta trasparente indipendente senza alcuna influenza editoriale sequenze in tempo reale della comunicazione dell'informazione delle public relations ovunque tu stia nel mondo anche attraverso www.enzodimicoblogspot.it oppure semplicemente enzodimicoblogger